Il provvedimento è esemplare perché si è verificato un omicidio all'interno di quel pubblico esercizio. Sono 40 giorni, il provvedimento più grave che abbiamo adottato negli ultimi due anni e mezzo. La colpa che si fa al gestore è quello di non aver avvisato per tempo le forze di polizia perché un nostro intervento molto probabilmente avrebbe impedito che l'evento potesse avere quelle conseguenze tragiche. Un provvedimento è messo nei confronti della titolare perché anche se è assente è responsabile della sicurezza del locale. Anche se è assente è responsabile della sicurezza del locale e comunque se è assente ci deve essere un suo rappresentante. E il rappresentante ha gli stessi diritti e doveri della titolare.